Noi raccontiamo alcune storie di assoluta normalità e in alcuni casi di rilevante successo. Può apparire strano, ma un imprenditore liberatosi dal condizionamento mafioso, lavora meglio e cresce. Le storie che noi presentiamo oggi sono storie di imprenditori che dopo che hanno denunciato hanno visto crescere la loro azienda. Aumentare il numero del dipendente, da 5 passare a 11, da 10 passare a 40, crescere la ricchezza che si produce e soprattutto dimostrare che si può vivere normalmente anche dopo aver denunciato. Storie di normalità e di successo di commercianti, imprenditori e semplici cittadini che hanno avuto il coraggio di denunciare il racket e l'usura riconquistando la dignità. Le loro testimonianze, raccontate questa mattina in sala giunta, sono state al centro dell'iniziativa voluta dalla FAI, Federazione delle Associazioni Antiracket e Antisura Italiane, insieme con il Comune, per riflettere sul fenomeno e sulle misure per contrastarlo. Noi vogliamo affrontare questo tema con la convinzione di distruggerlo prima o poi, il tema della criminalità organizzata, dell'usura, dell'estorsione, della camorra e delle mafie. Ci vuole un impegno collettivo, mai più lasciare le persone isolate e questo è un altro tema importante di questa giornata, raccontare anche le storie di successo. Non so se sono di normalità, perché io so che c'è tanto coraggio nei confronti di chi denuncia il sistema. Presenti con il sindaco Luigi De Magistris, i rappresentanti di istituzione e forze dell'ordine e numerose associazioni antiracket attive sul territorio. I dati che abbiamo sono dati su Napoli che indicano una costante, leggera crescita del numero delle denunce, ma come lei capisce sono dati assolutamente irrilevanti. Il fenomeno resta sommerso perché purtroppo la maggior parte dei nostri colleghi operatori economici non denuncia. I commercianti o imprenditori vittime di estorsioni si sentono soli. Bisogna far emergere questa solitudine, l'angoscia, il dolore che una vittima prova nel momento in cui subisce una pressione estorsiva. E' un delegato equilibrio tra fiducia che si deve instaurare, rapporto empatico con le vittime e capacità da parte delle forze di polizia di essere oltre la denuncia, oltre il rapporto formale giudiziario, si deve instaurare un rapporto di empatia. E le associazioni antiracket fanno un grande lavoro di cuscinetto tra le forze di polizia e le vittime. Il rumore degli spari fa paura, ma ancora più paura deve farci il silenzio. E oggi abbiamo aperto la sala giunta e il palazzo di città per fare rumore. E vogliamo far fare rumore in modo particolare alle storie di normalità e di successo di chi ha denunciato il racket. E grazie a questa denuncia ha avuto vicino tutto l'assetto istituzionale, le forze dell'ordine, anche quei sostegni economici fondamentali per non avere un danno all'attività economica, ma anzi per rinforzare. Grazie a tutti.